1 2 3 michele sei pronto 3 2 1 vamonos amici del movie bar buongiorno è lunedì mattina stiamo registrando le puntate della mattina che dopo vengono messe online la sera però quindi è un buongiorno di riferimento e buonasera quindi a chi sta guardando questo video di oggi signori ho all'ospite che sta per arrivare che è dietro le quinte nascosto da questi layout grafici pazzeschi che tra poco vi faccio apparire ho detto a telecamere spente che il suo progetto quando me l'ha descritto per per email quando l'abbiamo scovato su instagram ci ha fatto battere forte forte il cuoricino perché ci ha portato un pochettino indietro con i tempi e beh ragazzi non mi dilungo assolutamente ancora voglio farvelo raccontare dal diretto interessato sono felicissimo di avere al movie bar ladies and gentlemen michele di creami truccioli ciao michele inizio rock and roll il lunedì bisogna affrontarlo così michele perché sennò è veramente veramente dura buongiorno e grazie e rinnovo di nuovo di nuovo i complimenti per il progetto che come ti ho definito prima è proprio dolce è bello è squisito è puro e sono felicissimo felicissimo di averti qui e michele io prima di lasciarti parlare rubo sempre all'ospite un 30 secondi per ricordare il perché esiste il movie bar il movie bar è stato creato da da movie lab il nostro studio creativo in un in un anno che faremo molta fatica a dimenticarci un anno in cui abbiamo visto un sacco di persone e che si sono dovute rimettere in gioco che si sono dovute reinventare che comunque hanno dovuto stringere i denti per far sì che tutto potesse procedere ed è stato bello perché abbiamo deciso di dar voce a queste persone che in realtà non è da solo il 2020 che la gente stringe i denti è da da sempre che le persone stringono i denti per raggiungere i propri sogni e quindi siamo contenti di poter dare voce a persone come te che ogni giorno si sbattono per raggiungere obiettivi sogni e portare a casa quello che gli piace fare quindi michele grazie infiniti di aver accettato il nostro invito benvenuto al movie bar e michele lascio la parola a te con la domanda canonica di presentazione che è che cosa fai e da quando è che ti è partita la scintilla per il lavoro che tu stai facendo intanto vi ringrazio per l'occasione e vi faccio i complimenti per l'iniziativa perché è lodevole grazie io mi chiamo michele e vivo in provincia di parma e la mia famiglia viene dall appennino a confine con la liguria ho cominciato a lavorare in legno fin da piccolo forse perché era buono il dna non so essendo una famiglia di montagna si vede che c'è sempre stato dentro questo legame con la natura e ho cominciato a lavorare in legno per hobby come tutti si parte facendo mercatini per vedere se funziona anche perché mai la c'era uno sicuro quando uno vuole fare un'attività che ti piace perché non è detto che quello che ti piace ti dia da mangiare anzi non sempre i sogni di vivere e poi ho visto che la cosa poteva funzionare ho deciso di buttarmi non ho scelto periodo migliore perché ho deciso quasi un anno e mezzo fa quindi non è stata una scelta non lo potevamo sapere quindi dai hai te la buoniamo questa michele e logicamente a fianco quello che produco con una lavorazione legata ad altre cose non solo giochi perché non solo questo ti dà da mangiare in poche parole è bello fare le cose per passione ma ci sono dei costi fissi in tutte le cose eh sì ahimè sì e niente ho cercato di incanalare nella mia passione quello che da piccolo avrei voluto avere o che vedevo in giro e mi piaceva sì e da lì ho provato a fare macchine sempre più sono partito con le macchinine semplici dalla linea pulita arrotondate per lo più col tempo per avvicinarsi ai bambini per evitare magari spigoli cioè cose che possono danneggiare fino ad arrivare a scelte di materiali un po più pregiati tipo ciliegio faggio cioè per ricercare materiale chiaro dare un valore anche questo subito avevo cominciato approvvigionando legno dai boschi che abbiamo che avete lì sì solo che poi non era fattibile la cosa perché c'è un tempo di taglio di stagionatura e se leggevo infatti nella tua bio esatto leggevo siccome non dico che la richiesta sia tanta ma siccome non fai quattro macchinine all'anno non ci stai dietro certo e lì ho cercato intorno a me nella mia zona qui in pianura delle segherie che avessero legname non dico etico perché è impossibile tracciare un legno dall'inizio alla fine a meno che non sei una grande industria però perlomeno proveniente dalle nostre zone sì come dicevo come ti ho scritto nella mail non utilizzo legni esotici bellissimi con venature speciali l'unico legno nonno strano che uso è il mogano ok fare le macchine perché un legno che si adatta bene a ricordare una ruota perché quello anche più scuro vero di colore no michele ho giusto un camioncino qui guarda che meraviglia ok e il resto del materiale visto che ci siamo è perché la luce inganna eccolo così questo è rovere e cassone è in cinese che meraviglia guarda che meraviglia ok non colorando niente cerco dei legnami in contrasto tra loro proprio perché magari anche una presunzione ma di cercare di far capire alla gente che il legno non è solo marrone chiaro e marrone scuro ce ne sono tanti di tipi di colori di legno differenti le venature fanno la differenza quindi se in un oggetto che lasciamo perdere magari i taglieri che trovi nella grande distribuzione se sono magari in bambù o se va bene al meglio sono in faggio però ci sono tanti tipi di legno differente guarda questa è una biscia porta colori bellissima l'avevo vista sul sito queste fiamme qui questo è faggio che ha subito un attacco di funghi e spore e il faggio si chiama faggio fiorito ok non è tossico per l'uomo però cambia la linea della venatura del faggio che solitamente è pulita con tanti piccoli trattini sì e qui prende un'altra fiamma certo e non utilizzo ulivo non utilizzo cose che non vengano principalmente da dove vivo o dall'appennino e questo questo è bello guarda è legato soprattutto ad un messaggio che anche se in altri ambiti lavorativi noi stiamo stiamo veramente lanciando molto anche come studio che comunque è la bellezza di saper sfruttare le materie prime che ci circondano ad esempio noi lo facciamo molto anche con la parte di ambiente food ma in tutto secondo me bisogna sapersi rendere conto di quello che ci circonda e sapere come sfruttarlo che e questo aumenta ancora di più il valore di quello che si fa ed è ed è veramente veramente bello veramente bello fondo manca secondo me una un'istruzione una coscienza è sì un'idea di cosa è nostro di cosa no io l'ultimo post che ho fatto su instagram parlavo ho fatto un inserto per un aeroplanino che devo realizzare e come gli aerei di una volta dietro hanno delle coccarde che erano la bandiera e io l'ho cercato di fare con degli inserti di legno differente alternando colori e come post anche per stuzzicare un po la gente anche per mero commercio cercando di attirare follower ho chiesto se sapevano che tipi di legname da che tipo di legno sono composti si è colore e ho visto risposte arancio ma che non crescono qui a meno che non lo pianti non cresce da solo un arancio qui certo cresce ma non è autoctono e beh certo esatto esatto quello quello certo e ci sono tante cose che mi rendo conto ma non è una culpa verso le persone io sono ignorante verso altre cose come hai visto prima quando cercavano di collegarsi non sono però mi rendo conto che di fondo forse perché anche la scuola è un po cambiata nel tempo ci sono meno ore di manuali qualità di essi essi non dico contatto della natura ma perlomeno sapere dove vivi cosa c'è quello 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 è importantissimo ma come ti dicevo prima appunto al è anche un discorso allargabilissimo a a tutto quello che ci circonda e ho visto tanto ho sentito troppo anche sai e c'è voluto un virus per farvi capire del territorio del adesso tutti compriamo dai negozietti piccoli che poi ripeto anche questo è stato di uno speculato questo coronavirus e quant'altro è proprio un discorso largo del dire signori prima di andare a cercare fuori sappiamo e cerchiamo e cerchiamo di conoscere e saper sfruttare quello che abbiamo già dentro cioè dentro nel senso luogo l'italia e quant'altro e il bello tuo anche michele è che oltre a questo mi mi leghi anche un tuo discorso etico del perché stai facendo tutto questo c'è comunque che un rispetto ambientale giusto però io non vorrei troppo legarmi all'etica perché adesso va di moda dire usiamo prodotti naturali tutto cento per cento fatto a mano c'è un movimento c'è un movimento c'è un modo di fare marketing che non mi ricordo come si chiama perché io con i neologismi soprattutto certo che c'è questa finta propaganda di noi utilizziamo prodotti naturali certo anche per me che sono piccolo perché io sono da solo quindi non so neanche quanto valga la pena continuare a spingere a dire io uso prodotti io qui io la io la c'è a me piacerebbe che la gente vede chiede ma senza problemi insistere secondo me è come dire credici perché te lo sto dicendo che poi magari poi c'è non so se riesco a farti capire sì 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 chiaro troppo può risultare falso però però io credo che il problema di questo poi correggimi se sbaglio sia il fatto che c'è chi ha portato alla saturazione tutto questo c'è un pochettino come il il bio e un pochettino come tutto quello che legato a un fa bene nel momento in cui fosse stato sfruttato utilizzato in maniera corretta per quelle realtà o per quelle cose che veramente c'è dietro il termine bio se uno dopo va ad investigare c'è uno può applicare su un'etichetta di un cibo bio per due tre motivi e lo possono fare praticamente ormai tutti quando in realtà dietro la parola bio noi pensiamo il l'allevato in un certo modo il coltivato a mano senza utilizzo protetto quando in realtà adesso bio viene applicato su tutto io sono d'accordissimo su quello che tu dici però probabilmente questo tuo ragionamento è portato anche al fatto che è stato saturato troppo questo mondo perché tutti si permettono di utilizzare a che ne so legno naturale al cento per cento oppure lavorato a mano al cento ormai lo dicono tutti perché per il marketing fa bene dire così però giusto no nel senso intendo dire la cosa la cosa che a me farebbe piacere sapere che persone come te possono sbandierarlo in totale libertà e tranquillità senza dire ecco mi sto mischiando nella folla del bio del naturale del del legno cioè e anche questa realtà del 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 movie bar serve proprio per farvi sbandierare queste cose e un pochettino andare ad ammonire e anche anche il pubblico che ormai legge scritto bio su un prodotto al 0 99 centesimi dico io cristo santo come fai a pensare che sia una roba bio naturale cioè ecco mi son permesso sfogo fatto lascio la parola a te michele perdonami quello che hai detto tante cose ma quello che mi non voglio tirarmi l'ira dei degli ecologisti o di chi però secondo me la prima cosa più biologica che c'è acquistare sul territorio perché a me purtroppo capita spesso che mi vengano fatte richieste su instagram perché questo ormai è diventato più che come è nato una sorta di album di fotografie come lo utilizzo anche io è diventata pubblicità perché io l'uso mi a me certo certo mi capita spesso che mi inviano foto di prodotti fatti da altre persone altre ditte magari anche grande aziende me lo puoi fare te per l'amor del cielo sì io faccio una piccola ricerca ricerca perché vorrei anche magari grazie a questo video alla gente suggerire che se tu mi mandi una foto io guardo chi la fai a quanto la vende non è che te la faccio così no no mica scemo la vende a 100 io non è che ti dico te la vendo a 10 comunque detto questo è gente che questi prodotti li vede che arrivano sì in legno sì fatti a mano dalla polonia se tu un prodotto lo acquisti in polonia a 30 euro e ti arriva a casa con 10 euro di spedizione da uno di cui anche e da una grande azienda sto parlando è io non potrò competere coi prezzi una grande azienda bravo certo certo però delle volte devi abbassare i tuoi costi per cercare di starci dentro e quindi la prima cosa biologica forse etica chiamiamolo come vuoi è ridurre magari anche gli spostamenti perché far arrivare una cosa implica un impacchettamento un traffico del tra certo 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 lano e secondo me prima più che guardare l'etica delle grandi ditte che ti dicono questo l'abbiamo allevato a terra o questo è stato deforestato io come faccio andare in brasilia a vedere se qua hanno tagliato la pianta nel mezzo in alto per dire no no è vero hai ragione Michele hai ragionissima però sì sì è vero io sono scarti di lavorazione non so di un mobile di una scrivania di qualcosa delle volte prendo anche delle tavole intere per realizzare quello che voglio fare ma quando mi capitano scarti di non so sto facendo una scrivania e ci sono 40 centimetri di scarto faccio il prodotto che ci può stare dentro il prodotto sbagliato la creazione sì 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 io credo Michele che che realtà come la tua debbano costantemente quotidianamente comunicare in qualsiasi modo visto che ce n'è la possibilità soprattutto anche attraverso i social adesso che sono che riescono a raggiungere un sacco di persone per in qualche modo riqualificare la comunicazione legata dietro quello che è appunto la lavorazione manuale e la lavorazione attraverso i prodotti del territorio cioè persone come te dovrebbero urlare con il megafono attraverso i social attraverso i social e questo che noi facciamo è veramente poco è un piccolo gesto per riqualificare quella che è la vera comunicazione e far capire veramente al pubblico quello che è fatto quello che è fatto con appunto i prodotti del territorio i prodotti locali senza lo spreco comunque con un occhio di riguardo alla natura perché ripeto siamo comunque ormai schiavi di una di una comunicazione dove tutti possono dire tutto quindi sai come dici tu la grande azienda che produce il prodotto in legno uguale al tuo può permettersi allo stesso modo di te di dire guarda hai fatto con a mano con legni del territorio dopo appunto guardi dietro è scritto made in poland cioè nel senso però ripeto persone come te dovrebbero distruggere il web continuando ad urlare dal tese e continuare a comunicare questo perché è veramente 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 importante e oggi sono carico michele non so che cosa la mia la mia vena love and green sta prendendo il sopravvento su di me sarà il terzo caffè della mattinata ma detto questo mi hai scritto un'altra cosa per cui mi hai colpito un sacco non so se è perché avevi spiato tutte quante le varie interviste che noi facciamo al movie bar ma in fondo in fondo nella bio mi hai legato un consiglio un consiglio da dare a chi vuole lanciarsi nel mondo dell'artigianato che è praticamente una domanda di routine che noi facciamo al al movie bar ai nostri ospiti che è sempre girata in questo modo cioè se tu avessi la possibilità michele di di dare un consiglio anzi quello che io chiamo è lo lo starter kit il lo zainetto da viaggio ad una persona più o meno giovane che vuole lanciarsi del mondo dell'artigianato cosa gli faresti mettere dentro oltre ai prodotti della propria terra da utilizzare per due punti parola a te tanta pazienza ma tanta pazienza e soprattutto considerare un anno se non di più che le cose non vadano bene non vadano bene nel senso che devi investire un sacco ma un sacco prima di pensarci avere un bel gruzzoletto come cuscino da parte perché mi sono reso conto aprendo la partita iva come ho fatto io sì in un reggificato che nessuno ti aiuta perché è facile aprirla questa partita iva con dei costi bassi ma è impossibile accedere ad altre cose che le partite iva normali hanno quindi non hai costi da scaricare perché non puoi scaricare nulla e non puoi neanche accedere a prestiti così facilmente come possono accedere le altre partite iva cioè non hai ti devi aiutare da solo quindi prima di partire devi farti un bel cuscino come ammortizzatore nel caso dovessi averne bisogno sì armati tanta pazienza perché tanta gente ti contatta per dirti che vuole una cosa e poi non si fa più sentire quindi insomma queste cose ti possono demoralizzare perché a me questa cosa mi fa un po' innervosire ma col tempo ho imparato che sì dura magari due minuti la rabbia ma poi lasci perdere certo e bisogna provarci insistere ma non buttarsi giù perché ci sono dei momenti che dici verrà io ho speso tanto per farlo investito e i risultati dove sono bisogna avere anche tanta fortuna di trovare persone giuste con cui lavorare collaborare da dal mondo del piccolo artigianato come sto facendo io quando faccio fiero mercati alla realtà di tutti i giorni quando magari trovi non so un falegname a cui dare le ma una mano nel mio caso da cui impari perché c'è sempre da imparare nel mio caso non si smette mai oppure a amicizie che ti possono aiutare nel tempo cioè tu puoi lavorare per qualcuno che ha bisogno e slegarti magari dai giochi che rimarranno sempre una cosa però non è l'introito principale non è quello che ti fa andare avanti certo certo no no esatto che deve essere ma non siccome non deve essere la preponderante che ti fa lavorare perché io poi ho un'idea che se tu fai una cosa per passione e difficilmente riuscirai a mantenere la passione invariata quando questa diventerà un lavoro perché quando tu hai per dire 100 macchinina da consegnare entro un mese è una scadenza e tu tutti i giorni ti pensi a quella scadenza e pensi a fare le stesse cose per tutti i giorni finché non l'hai consegnata invece quando lo fai per passione dici adesso ho lo sprizzo di fare questa cosa la faccio poi la lasci lì magari un attimo e fai dell'altro cioè dopo diventa una cosa lavorativa al 100% dopo la passione è vero diciamo che è un bel è una bella carica di energia il fatto di sapere che quello che è la passione è si è trasformato il lavoro cioè io ne parlo anche per il lavoro che faccio io da videomaker cioè so benissimo che forse il mio lavoro rispetto a quello di una scrivania seduto a far conti o altre altre tipologie di lavoro hai quella marcia in più proprio ma di carica di carica non è che ci sia un lavoro più bello di un altro però è vero a un certo punto tu devi devi sapere che di lavoro si tratta quindi entrano in te dei meccanismi di proprio di che che non è più una 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 lavoro da passione ma è un lavoro da lavoro nel senso devo portare a termine come dicevi tu delle scadenze e devo farli in un determinato tempo e circa me adesso me l'hai messa così sul sul su due piedi questa domanda da farti ma circa 100 macchinine quanto quanto tempo ti impiegano a te questa è una delle domande che io odio ok faccio un rewind cancello taglio taglio tutto perché spesso vado a fare i mercati e conosco un sacco di gente che mi dice sa lo faccio anch'io va bene bello mi piace chiacchierare soprattutto con gli anziani per l'amor del cielo però non è che hai un metro logicamente quando faccio una macchina non ne faccio mai solo una ne faccio magari cinque certo per ammortizzare i tempi di lavorazione però dipende la macchina c'è quella macchinina che per farne una ci vuole magari una mezz'ora c'è quella è chiaro però è tutto diviso perché prima fai il corpo poi fai le ruote ah li fai ok ok quindi ok giustamente perché anche utilizzando legni diversi chiaro è una macchinina adesso quando centro la telecamera vai sali un po di più Michele sali un po di più eccola tecchete ok composta da un corpo e da quattro ruote sì logicamente fai prima i corpi questa è in abete sì fai prima il corpo e poi le ruote e quando fai i corpi ne fai magari 10 insieme e tutte le varie lavorazioni perché qui c'è una sgrossatura poi ci sono questi tagli da fare c'è questo incavo da fare e poi c'è da carteggiarli in maniera finale in più poi le ruote vanno fatte le ruote poi vanno tagliati i perni assemblate e in ultimo sotto ogni pezzo ci viene messo dall'altra non ho ancora imparato neanch'io e non ho ancora imparato all'opposto sotto ogni pezzo il macchio a fuoco che distingue grande il barbun quindi giusto e ma dimmi una cosa appunto tornando lì alla parte di lavorazione è tutto comunque e tu hai del degli stampi ad esempio le ruote sono fatte o è tutto fatto a mano c'è domando proprio nella pratica di tornare indietro quando si potevano fare i mercati e le fiere vero è manna stampi per il legno vorrei far capire al mondo che non esistono gli stampi oh e diciamolo e diciamolo ok olè perfetto dai si taglia si incide si carteggia quindi lo sgrossi e poi lo finisci cioè lo fai un taglio di sgrossatura e poi fai una lavorazione per la finita mi ritiri fuori la macchinina michele un secondo per favore no nel senso io io poi so che anche quando faccio queste interviste la maggior parte dei lavori io non li conosco quindi so di far parte del potenziale cliente medio o essere umano medio che ti dice ah quindi tu hai un laser che ti taglia perfettamente tonde quelle quattro ruote compagne cioè io le riguardo e dico cioè vaffan brodo e perché ho detto brodo perché nel senso se no dopo è veramente brutto e c'è io neanche neanche col col compasso riuscivo a fare una roba del genere tutte le mie scuole anni di onorata carriera è come tu hai la tua attrezzatura certo 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 uno il modo migliore per riconoscere se una lavorazione artigianale spesso quando è usato male perché poi certi prodotti al laser fatti bene non si riconoscono ok le bruciature intorno a taglia perché il laser per tagliare brucia è una giusto giusto ragazzi adesso quando ripartiranno i mercatini andrò ad analizzare tutti gli sgamele di cose no è qua e no vedi però questo mi piace questo ritorno indietro scusami ma veramente oggi ti uso come bandiera da sventolare e spero che in qualche modo possa fare piacere anche a te cioè sono le cose che non si sanno michele e quindi capisci che un pubblico ci mette ci mette poco a non capire dove stanno queste grandi differenze più che il laser che si vede molto se è fatto a laser o a macchina o a mano ci sono delle macchine contro numerico cioè delle macchine computerizzate ma qui lo riconosci e lo riconoscerebbe anche un bambino perché tutti sono fatti uguali uguali esatto dieci macchinine non ce n'è una uguale all'altra sì ho una sagoma in cui faccio il disegno da cui ricavo il disegno sul pezzo quindi a matita faccio il profilo e poi taglio quindi da lì si parte per farle tutte però non saranno mai precisi identiche perché poi è la mia mano che va a fare magari eh sì un'intenzione più profonda quindi verrà mascherata il prodotto alla fine sarà simile perché il modello è quello però poi vedrai la differenza se ne mettiamo due a confronto tre cinque dieci non ce n'è una uguale all'altra perché non perché non posso essere preciso al millimetro quello sì certo certo non ho quello le volte la gente non apprezza questa cosa e io infatti rimango sbandieralo sbandieralo diciamo è sempre livello di lavori michele e anche qui so che come tutti i lavori il i pezzettini di cuore li lasciamo sempre un pochettino in tutti i progetti in tutti i prodotti in tutte le lavorazioni che andiamo a fare ma c'è qualche cosa una creazione dove dove tu quando l'hai finita l'hai o l'hai consegnata l'hai tenuta per te o comunque a prodotto finito hai detto porcaccia la miseria cioè ti sei dato quelle quattro pacche sulla spalla da solo per dire ok sono proprio soddisfatto di me io sono contento quando riesco a fare qualcosa che mi che voglio fare io le cose su commissioni mi riescono sempre un po male perché è forzata la mano nel senso che tu mi chiedi qualcosa che non è mio io lo faccio cerco di farlo come vuoi perché delle volte cerco di fare anche le cose da un disegno che mi viene dato dal cliente ultimamente ho fatto un boxer per una ragazza che voleva un boxer perché era il suo cane ok mi viene però non è come quello che piace a me nel senso io sono tutte le cose che faccio se non sono soddisfatto non le consegno piuttosto gli dico non è venuto bene te lo rifaccio finché non viene certo però tutte le cose che faccio una vetrinetta dove metto i primi pezzi che ho fatto sono lì non si troveranno rimangono lì però non ho un pezzo a cui sono affezionato e non riesco a vendere certo quando vendo qualcosa qualcuno sul palo di mercati live di fiere quando dai qualcosa a qualcuno che capisce cosa in mano sono soddisfatto perché vedo che la gente capisce quando invece comprano qualcosa cercando il prezzo quello che costa meno chiedendo lo sconto cioè lì capisco che vogliono qualcosa tanto per e vabbè e lì si vende ma è mero mercato la soddisfazione quando c'è qualcuno che si ferma capisce che è che tipo di legno è che cos'è lì sono soddisfazione l'unica cosa che a cui sono un po legato appunto la macchina che ti facevo vedere prima perché tutti i miei modelli hanno un nome tutto quello che faccio i grandi perché quando cedo un mio prodotto c'è un etichetta con certo certo reale utilizzato che non è stata trattata con oli con vernici con solventi ma solo con olio naturale alimentare quella che ti ho fatto vedere prima si chiama tazio è la prima che ho fatto fatto dedicato a tazzi nuvolare infatti vera grande nuvolare infatti grande vedi vedi che vedi bello bello anche questi significati mi piacciono mi piacciono un sacco veramente mi piacciono un sacco infatti mi capita molto spesso i bambini che passano e dicono guarda una macchina da corsa e magari i genitori e la mamma dicono no non è vero perché adesso siamo abituati ad altre macchine mentre quella che ho fatto io ha un profilo che ricorda le vecchie le vecchie macchine da corsa certo è una riproduzione fedele delle macchine della corsa ma è come la vedevo io certo no no è bello allora cerchi di spiegare chi è come si chiama e perché e vedi che magari tanta gente non sa chi era tazio eh sì io di automobilismo non sono proprio un appassionato ma era un personaggio eh sì ma sì ma è come dire non sapere chi è Pantani capisci nel senso sono quelle persone che hanno fatto la storia dello sport o comunque la storia della storia e sì da tazze nuvolari assolutamente macchine no bello bello e michi allora siccome ogni volta io sforo cioè nel senso mi danno tempi io dico sempre il movie bar dovrebbe nasce come un format da 20 25 minuti ma noi siamo già andati lunghi abbiamo già superato la mezz'ora ma mi va bene così e ogni volta mi prendo io le parole non c'è nessunissimo problema e però ti eh comincio a incanalare un pochettino nella chiusa della dell'intervista passando per un pochettino di domande di rito che io ci tengo sempre intanto il tuo rapporto con i social michele perché comunque vedo che giustamente sei un eh un po' animo retro però ti ti vedo presente cioè li sai usare correttamente comunque gli usi mi sembra no li costringo ad oggi ripeto non avendo eventi live dove poter certo l'unico modo è una vetrina quindi è l'unico modo per farti vedere per esserci non sono bravo infatti da molti amici artigiani prendo nomi perché dovrei fare così dovrei fare cosa però problema che io ripeto sono sempre da solo e anche gestire i social sembra una stupidata ma eh lo so è vero è passione è un conto ma se lo se lo fai per lavoro avendo un un profilo aziendale hai certe cose da rispettare infatti tutti i giorni faccio stories per mantenere un po' di attenzione attenzione certo con mio gatto che è la mascotte quindi tutti i giorni dopo il laboratorio lui è lì che vuole entrare è il protagonista è un protagonista è un messaggio quando non lo pubblico ma su gatto quindi bravo esatto però bisognerebbe impegnarsi di più solo che è difficile per me perché ho lavoro o gestisco eh lo so lo so è vero è vero lo so affidare la gestione ad altri diventa costoso quindi è una è un po' una spada di damocle è vero quello quello è vero però nel senso ti ripeto vedo che ci sei 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 presente comunichi e ti ripeto fallo ancora di più ma hai capito su che cosa nel senso battiamoci 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 per queste cose per queste cose belle per queste realtà veramente che meritano spazio e voce in un mondo che appunto ormai ahimè è saturo di comunicazioni farlocche fasulle devianti e siamo un popolo di creduloni ahimè questo questo è un problema e e quindi oltre a sapere chi è tazio per favore signori documentatevi su anche sulla realtà come quelle di michele che fa bene alla vita e michele un'altra un'altra domandina che appunto ci porta piano piano verso la chiusura ed è la seguente se il michele di oggi il michele di il lunedì 16 novembre 2020 avesse possibilità di rincontrare il michele un po più giovanotto sbarbatello sei stato anche tu sbarbatello mi sa vedo il barbone però sbarbatello lo sei stato anche tu dai nel senso sono nato senza barba ah boh perfetto qui ok e e potesse sapendo appunto come tutto il procedimento che tu hai fatto tutto il processo della tua vita lavorativa e quant'altro e e avessi la possibilità di dirgli qualche cosa che cosa gli diresti a questo michele sbarbatello in vista del futuro che e della vita che lo aspetta li daresti qualche consiglio siccome io mi faccio più più di una volta questa domanda e se tutto andasse come è andato gli direi solo di iniziare prima di avvicinarsi prima al mondo professionale del legno se io ho fatto altri lavori lavorati in officina quindi metalmeccanica sì ho imparato tante cose che comunque sfrutto anche sul legno ma non è c'è ci sono tante cose che ripeto non smetti di imparare uno non può mai dire di aver imparato tutto nel legno soprattutto perché adesso non c'è più nessuno che ti insegna quindi bisognava cominciare quando c'erano ancora vivi vecchi si dalla valle dove vengo io c'erano non so ogni due o tre paesi c'era un falegname magari ogni ogni cinque c'era una segheria adesso non c'è più nulla ma nulla perché i giovani si spostano i giovani non sono più appassionati quindi non c'è più davvero neanche una scuola da noi per io e da quando ho 18 anni che cerco di intraprendere questa strada ma non c'è nessuno che ti disposta a insegnarti certo c'erano perché adesso nella mia zona anche lì ce ne sono pochi di falegnami ma andavi a fare le seggiole andavi a fare i serramenti non imparavi a lavorare il legno so che invece in veneto è diverso c'è se in veneto c'è nel basso veneto c'è una grande tradizione di lavorazione mobili sedie piuttosto che mobili di cucine sale però ho visto che anche lì adesso c'è un po di crisi ma sì quello 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 come dici tu manca un po la vecchia guardia anche è vero no no è verissimo è verissimo e però potresti cominciare potrebbero persone come te cominciare a rimettere in piedi quello che è anche la bella cultura del lavoro è però non è detto che chi sa fare sa insegnare anche qui apri e sfondi una porta gigantesca adesso contatto e dico signor facciamo la puntata extra del movie bar assieme a te possiamo parlare però è vero e su questo sono d'accordissimo michele però credo che anche quelli che tu citavi prima i famosi i nonni le persone più anziane che tra ma non penso che fossero nate con la 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 conoscenza di come insegnare qualcosa secondo me quando hai una passione per qualche cosa poi la puoi spiegare bene la puoi spiegare male e però comunque la sai spiegare se com'è la sai tramando nel momento in cui ce l'hai dentro e io credo nel senso che nessuno fosse nato imparato su come il come tramandare è solo che probabilmente si era più legati anche alle attività che si facevano una volta cioè delle attività proprio più così pure così semplici così terrene che 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 dopo ti veniva naturale tramandarle perché potessero essere portate avanti con la stessa passione con cui le facevi tu penso che una persona come te ma oltre che come te anche come tutte le persone che riescono a fare il discorso prima passione lavoro quel lavoro dove comunque la formante della passione è presente secondo me abbiamo questa spinta in più mi ci tiro dentro anch'io di saperle in qualche modo e volerle condividere in maniera veramente secondo me viene naturale quindi michele vedo già un bel anche un bel canale youtube una bella scuola perché no quando ci sarà la possibilità un academy un creami truccioli academy io la vedo è io tu pensi che ti prende in giro ma nel senso secondo me sono quelle cose belle perché ce ne sono già tanti di youtuber che insegnano a lavorare il legno molte volte ci sono cose interessanti molte volte diventano meri rappresentanti commerciali lo so e lo so è vero anche qui è vero io preferisco fare perché non ho la suppolenza di insegnare bravo però comunque bravo anche qui l'umiltà l'umiltà premi e premierà e premierà sempre michele allora siamo arrivati anche all'ultima all'ultima domanda che è l'ultima domanda di solite quella un po più pazzerella che viene fatta ad ogni ad ogni ospite che noi abbiamo al movie bar la sto leggendo quella che è stata proposta per te ti è nata veramente bene però siccome sono sempre domande che un pochettino deviano poi dal percorso che abbiamo fatto in questa chiacchierata volevo ringraziarti infinitamente mi ha fatto un sacco piacere te l'ho detto a telecamere spente prima vedere una realtà come la tua mi ha riempito veramente il cuore e ragazzi non gli sto a tirare la leccata di piedi perché qua con me ma perché vedere queste realtà mi fa veramente mi dà un senso veramente di di bello e di passione di amore per quello che facciamo e quindi complimenti se avete bisogno di qualsiasi informazione di vedere quello che michele fa tutti i giorni vi lasciamo tutti quanti link su instagram quant'altro a c'è tutto trovate tutto e spero che capiate possiate capire anche attraverso questo video il valore che può avere una persona e come michele nel lavoro e quello che fa tutti i giorni per per produrre queste queste opere d'arte in in legno quindi michele grazie 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 infinite veramente e cosa troppo gentile ringrazio voi e va là no no guarda noi siamo grandi sbandieratori di queste cose quindi lo procederemo a farlo sempre 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 più ad alta voce soprattutto quando le realtà sono come quella come quella tua quindi michele grazie grazie ancora e bene detto tutto questo io procedo con la con la domanda con la domanda fatta su misura per te so già forse la risposta una delle poche volte che so dare una risposta e la risposta ti chiedo anche di motivarla e procedo alla domanda caro michele preferiresti vivere cent'anni nel futuro o cent'anni nel passato no nel passato ma nel passato ma nel passato non c'erano neanche ancora le macchine vero o gliele faresti tu in legno le macchine no nel passato passato proprio da me io vengo da un posto dove come in liguria siccome siamo al confine non c'erano ci sono i terrazzamenti per coltivare quindi si rubava la montagna e non c'erano i carri ma c'erano le slitte quindi non servivano neanche le ruote per trascinare le cose c'erano questi lastricati i pavimenti i sentieri lastricati dove i buoi o gli asini tiravano le slitte quindi non serviva neanche la ruota potevano neanche non esitarla e via drì quindi niente cerchi perfetti era anche tutto più semplice perché c'era meno c'era un po più valore umano certo certo e guarda su questo casomai mi sa che faccio le valigie parto anch'io con te se si potesse tornare su quel quel mood di vita lì guarda ci metterei una firma per un biglietto di sola andata se 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 veramente si potesse però dai diciamo che che la risposta ci sta quindi la accettiamo ed è perfetta e calza perfettamente perfettamente a pennello con con te michele michele bene quindi definitivamente siamo arrivati alla chiusura abbiamo fatto un 40 minuti magnifici ti ringrazio nuovamente non smetterò di farlo come ho già detto tutti i contatti di michele li trovate qui sotto quindi contattatelo se avete bisogno di qualsiasi tipologia di informazione michele grazie 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 infinite di aver partecipato al movie bar come dicevo all'inizio progetto pensato e creato proprio per dare voce a persone realtà come michele che ogni giorno si battono per portare quello che sono i loro sogni i loro e le loro visioni di vita lavorative e non in in questo mondo che ha bisogno di un pochettino più di michele se è possibile ecco quindi lanciato anche questo messaggio michele grazie infinite grazie aver partecipato grazie e signori del movie bar ci vediamo nella prossima puntata grazie a tutti